111 luoghi? Ebbene, è il nome di una collana di guide un po' particolare. Le pubblica la Emonds, casa editrice di libri e audiolibri. Sì, lo so, l'aggettivo particolari vuol dire tutto e niente. Potremmo utilizzare insolite, curiose e cercare altri numerosi e vaghi sinonimi, ma prima che la vostra pazienza si esaurisca, tenterò il tutto per tutto con l'onestà. Esistono una infinità di guide, di tutti i generi e tutte, bene o male, promettono di farvi scoprire luoghi magici e segreti che nessuno conosce, che faranno di voi inesauribili pozzi di rarità, inestinguibili fonti di aneddoti e storie circa il tal palazzo o la tal'altra strada. Noi non ve lo possiamo promettere. Serve lo studio, della storia, dell'architettura, la curiosità e una consapevolezza di cui gli aneddoti sono solo il ghirigoro, l'orpello. La collana 111 cerca invece di invitarvi a questa conoscenza, attraverso i sapori, i colori. Sì, certo, le storie, ma ecco, possiamo dire che sono 111 racconti che cercano di abbozzare un romanzo della città, del quartiere, insomma, una narrazione collettiva che tenta di dare una voce a un territorio. E visto che oltre ai libri facciamo anche gli audiolibri, perché non dedicare un podcast ad alcuni dei nostri titoli? Io sono Paolo Girella, direttore della collana, e questo è 111 luoghi, un podcast di Emons Record, in cui da alcune delle nostre guide selezioniamo una decina di luoghi e gli diamo voce, attraverso gli autori e i protagonisti delle storie in essa presenti. La prima serie di 11 puntate è dedicata a Trastevere, e gli autori a cui lascerò la parola sono Giovanna Santirocco e Gianluigi Spinaci, Trasteverini Doc. Entrambi scrivono e lavorano alla redazione del Ventriloco, rivista di Trastevere. Ed è anche per questo, per la loro grande interazione con il territorio, con Rione, con la R maiuscola, come direbbero loro, che abbiamo scelto di fare con loro questa guida su Trastevere. Prima di lasciarvi, visto che tutto parte dalla guida a 111 luoghi di Trastevere che devi proprio scoprire, vi leggo la quarta di copertina. Trastevere. Rione tredicesimo. Al di là del fiume, eppure, cuore di Roma. Ogni suo scorcio è una cartolina. Come un gatto, di giorno, sonnecchia sui sanpietrini malcerti e la notte viene invasa da una movida distratta, dimentica della sua dimensione più antica, più vera, che resiste, che vive nelle botteghe, sui banchi del mercato, nella memoria di fontane, statue e palazzi. Una fiumana che non sa di una Trastevere nuova che germoglia guardando al futuro e cerca di recuperare la propria identità e tradizione. 111 luoghi, storie e testimonianze per resistere insieme al Rione e dargli voce. Ascolterò con voi le prossime puntate. E se nel frattempo dovesse venirvi curiosità per questa guida, la potrete ovviamente trovare in libreria oppure ordinare sul nostro sito www.emonsaudiolibri.it